Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Avete notato che la mattina la vostra voce è un po' più bassa? Generalmente la mattina la nostra voce è bassa, più scura, più grave, è un po' più sexy. Perché succede questo? Perché essendo stati a letto, diciamo in silenzio, per almeno 7-8 ore, come abbiamo già consigliato in precedenza, la voce nostra sta dormendo, come noi siamo rallentati, allo stesso modo la voce è un po' rallentata, cioè nel senso le corde vocali non hanno la stessa reattività che hanno poi durante la giornata, ma devono anche loro svegliarsi in un certo senso. Questa è una cosa fisiologica, è una cosa normale che accade a tutti e quindi se devi cantare la mattina, ad esempio, se hai la lezione di canto alle ore 11, dovresti svegliarti almeno un paio d'ore prima, due o anche tre ore per andare ancora meglio, quindi alle 8-8 e mezza dovresti già svegliarti, cominciare a parlare piano piano senza avere fretta di far svegliare la voce troppo rapidamente, quindi non è che noi ci svegliamo la mattina e iniziamo a urlare, cioè devo riscaldare la voce. È una cosa fisiologica che deve avvenire piano piano iniziando a parlare, svolgendo le nostre attività giornaliere come tutti gli altri giorni. Ovviamente prima di cantare poi noi dobbiamo riscaldare la voce facendo gli esercizi, dei suoni muti, dei vocalizi e poi iniziamo a cantare. Magari io la mattina non farei subito una canzone estrema, difficile, ma magari cantiamo prima una canzone più semplice, più centrale e poi portiamo la nostra voce a cantare in maniera normale tutto quello che abbiamo da studiare e da cantare. Buonanotte. Buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Quindi se stai provando a cantare di mattina una canzone che magari la sera prima ti riusciva e vedi che non ce la fai e non ci riesci, tranquillo, è una cosa normale che capita a tutti. Aspetta un po' e poi ci riuscirai più tardi. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie. Grazie. Grazie.